siamo subito alla calcia in porta mezza 2 supera 1 palla tricciolio niente ancora sarnataro la stoppa cosita mario posto partire del solitario ancora imperatore avanza l'italia ancora con esposito posto di trenare il cross posito l'alzarella verso l'italia la palla riva oriente esposito gira dario calcia cuccaro vola dalla batterina in mezzo 1 a 0 mezza vecchia calcia in porta con partire dario paratario fra scalzi vada esposto in mezzo per gaudieri e c'è il 2 a 0 ma che azione dell'italia diego diego calcia in porta così è così di testa la palla gaudieri gira per diego ricciole il tiro da salberg attenzione c'è diego ricciolio cuccaro esposito di testa cuccaro la blocca carolette diego ricciole può calciare isca c'è ancora l'italia però con esposto esposito vada gaudieri si gira calcia ottimi scambi ora imperatore va in mezzo da diego ricciolio che calcia cuccaro mattani capulli cuccaro finisce così il primo tempo imperatore calcia cuccaro la blocca partire da solo ma da ricciole al destro cuccaro in mezzo attenzione c'è il collo di ricciolio 3 a 0 guarda intorno vada marco vada marco ricciolio vuole calciare infatti lo fa cuccaro fa una prodezza si gioca esposito vada gaudieri può calciare infatti lo fa segna ancora gaudieri diego calcia gira la fascia in mezzo ancora gaudieri non finisce mai disegnare gaudieri un altro culo può girare da oriente di tacco esposito si porta sul sinistro esposito vada oriente in mezzo c'è ricciolio ancora con destro palo sbaglia il tiro di ricciolio sbaglia il controllo ancora gaudieri vada dario si gira calcia dario palo c'è esposito la stoppa in mezzo esposito diventa un tiro 6 a 0 c'è esposito il tiro palo c'è esposito il tiro palo la prende con le dita palla arriva dario ancora dario calcia dario che calcia in porta dario traversa gaudieri tuttora la blocca è fatta in avanti vita san nataro i fan tu mi sembra cucca la vada solo e finisce così la partita vince l'italia a parte e siamo qui alla fine della partita tra l'italia e winbredon quanto è finita l'italia che demolisce winbredon 7 0 oriente siete partiti subito carichi da una vita non è facile non avere cali di attenzione quando è molto dura ho vinto una squadra che nonostante il 4 5 a 0 6 a 0 ha continuato da attaccare e ha continuato da rincorrere gli avversari quindi ci portiamo un bel atteggiamento per la prossima partita venite sulla scia del napoli che vince contro il redwood 4 a 0 9 punti secondo posto a pari punti che dite noi come sempre noi siamo lì ce lo dobbiamo sempre giocare con tutte l'obiettivo è sempre quello di arrivare in campo un saluto a oriente la partita siamo qua tre portieri tre portieri e una fama cucca lo hai da dire non lo so che ti devo dire se lo faccio nel campionato ci ho fatto un grande regalo è più importante della partita sono fatto male oggi peggior partita del campionato ma forse rispetto anche all'anno scorso mi sa la peggioria nelle ultime due edizioni non ho capito che cosa non ha funzionato effettivamente perché eravamo ormai siamo una squadra discrita tecnicamente non possiamo fare queste figuracce e vediamo un po' cosa dobbiamo fare sì peccato dovete subito rialzare la crista però ci stanno squadre che possiamo bazzicare a qualche punto noi tre ne abbiamo fatti come fa nato per raggiungere i punti dell'anno scorso franco tu invece è spettatore non pagante hai fatto un intervento non ti manco calciato io sono pulito oggi e allora allora ragazzi siamo qua quasi in chiusura no in chiusura Fabio no non può essere ripreso perché diritti di copiraito diritti di copiraito è l'unico arbitro non possiamo riprendere ci vediamo nel round numero 5 eh non è Fabio ci vediamo alla quinta giornata quinta giornata ciao ragazzi questa è il Napoli quindi faremo recuperi salve a tutti buona domenica senza scordo di una link ciao